ciao amici sapete cosa mi chiedono spesso come naturopata esperta di dimagrimento naturale di far sparire il grasso con un colpo di spugna la domanda è perché non riesco a dimagrire è una questione di metabolismo ecco allora i miei tre segreti più efficaci per attivare il metabolismo in modo naturale e iniziare a vedere subito dei miglioramenti se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 alimentazione la prima cosa da fare è mangiare i cibi giusti e seguire un'alimentazione specifica con una elevata quantità di proteine grassi buoni fibre e una ridotta quantità di zuccheri anche se non riesci a ridurre del tutto gli zuccheri e carboidrati l'importante è introdurre in ogni pasto questi tre tipi di alimenti proteine le proteine possono essere vegane a base di soia o di legumi oppure carne o pesce ma non di allevamento intensivo meglio salmone selvatico pollo allevato a terra carne bovina da animali che hanno mangiato erba e non mangime sintetico oppure polveri proteiche ad alta concentrazione come quelle che ho introdotto in questo video è stato dimostrato che le proteine sono fondamentali per perdere la massa grassa e mettere su massa magra cioè muscolo che sostiene il metabolismo in italia la nostra alimentazione troppo basata su carboidrati a colazione pranzo cena spuntini bisogna introdurre più proteine ma non proteine animali tre volte al giorno grassi sani per attivare il metabolismo bisogna inserire grassi buoni e non mangiare solo fat free quindi vai con frutta secca avocado oli vegetali o burro chiarificato che spiego come fare in questo video fibre il terzo cibo necessario a stimolare il metabolismo sono le fibre che troviamo nei semi di lino semi di chia noci mandorle frutta e la verdura servono a farti sentire sazio più a lungo assorbire meno i grassi gli zuccheri e aiutano a perdere peso e il secondo segreto 2 esercizio fisico se vuoi accendere il fuoco del tuo metabolismo devi fare esercizio fisico un recente studio americano ha dimostrato che un training alternato con esercizi cardio e di potenza brucia 10 volte più grassi di un esercizio costante anche cardio su lunghe distanze fare un allenamento misto con 30 secondi di cardio e 30 secondi di potenza alza molto il metabolismo e il terzo segreto 3 ridurre lo stress lo stress emotivo e la mancanza di sonno aumentano il cortisolo riducono la melatonina e disturbano gli ormoni che aiutano la perdita di peso e il dimagrimento così il metabolismo si blocca dormire 8 ore ogni notte ridurre lo stress ogni giorno con un po di meditazione sarà utile per attivare il metabolismo e ottenere risultati visibili presto per conoscere tanti altri trucchi e consigli per dimagrire in modo sano e naturale basta iscriversi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto vivi consapevole e vivi meglio